Specifici esami della tracciabilità dell'acqua hanno dimostrato che il flusso delle precipitazioni assorbite dal terreno intorno alla discarica arriva attraverso le grotte che collegano l'altopiano alla valle a Valstagna, da dove peraltro parte un efficiente sistema di pompaggio che rifornisce d'acqua buona parte dei cittadini asiagesi. Però la preoccupazione è enorme perché in un sistema dove se esiste l'endocarsismo e avere una discarica in un luogo del genere che potrebbe per qualsiasi motivo inquinare il bacino idrico di Oliero non è una cosa poi così tanto piacevole. Il sindaco di Valstagna, Perli, chiede delle verifiche sulle condizioni della discarica Melagon. Il percolato potrebbe finire in falda con rischi enormi per la popolazione. Bisognerebbe analizzare con delle prospezioni geofisiche anche tutto intorno alla discarica se per caso ci sono delle perdite perché il percolato viene raccolto naturalmente dalle fuoriuscite che sono state naturalmente collegate alla discarica. Però tutto è possibile, voglio dire. Dopo le analisi per scongiurare il rischio di un disastro ambientale e disinnescare la bomba ecologica serve un intervento strutturale. Chiediamo che ci siano degli interventi strutturali a breve e a lungo termine e quindi immediatamente la chiusura con la copertura stagna della discarica in modo che non filtri acqua. E in secondo momento che ci sia un intervento strutturale da valutare se di bonifica, ma qua bisogna che tutti intervengano, la regione, la provincia, lo Stato. insomma